San Luca di Melicucca, Amaroni fa festa tra fede e tradizione. Amaroni rivive nella fede e nelle tradizioni la festa di San Luca di Melicucca, rinnovata anche quest'anno la tradizione della Messa Solenne, omaggiata in segno di devozione al Santo della Famiglia De Vito. Soddisfatto l'arciprete Don Roberto Corapi, nel corso della sua omelia il sacerdote ha sottolineato l'importanza nella storia della Chiesa e nella storia della comunità amaronese, San Luca di Melicucca, ha detto, rappresenta per tutti noi un prezioso dono ricco di quelle tradizioni e di quella fede adulta che fa sì ad una persona di diventare santo. Dobbiamo tornare al Vangelo, alla santità feriale e quotidiana, facendo le cose ordinarie in un modo straordinario. San Luca di Melicucca, vescovo di Crotone, si è ritirato qui ad Amaroni a pregare, quindi Dio ha scelto questo luogo per lui. Dobbiamo amare il luogo dove Dio ci pone, dobbiamo servirlo con gioia e con amore, facendo ogni giorno la sua volontà. Dal canto suo il Cavaliere Rocco Antonio De Vito ha invitato a ritornare a ripristinare la fede autentica verso Cristo, attraverso questa figura che ha dato un'impronta religiosa e storica alla comunità di Amaroni. San Luca di Melicucca ha lasciato un segno di amore, esiste ancora una località del paese che porta il suo nome. In questa stessa località, a devozione della mia famiglia e del popolo amaronese, è stata anche dedicata un'icona con l'immagine del santo. In una chiesa gremita di persone, sia del posto che provenienti dal circondario, si è manifestata la fede verso questo santo e verso Dio. Amaroni scrive così con la penna del cuore un'altra pagina del Vangelo in una cornice tutta speciale, iniziando anche il triduo in onore di Santa Lucia Vergine e Martire, dove la comunità è assai devota.